Il grande cinema nell'isola, un festival internazionale a proda nel sud Sardegna e divene vetrina per attirare il turismo di lusso. Una legge per i vitalizi, scopia la polemica tra le forze politiche dell'isola sulla legge che dovrebbe riconoscere le pensioni ai consiglieri regionali. Differenziata delle polemiche, nel capologo Sardo non si placa l'ira dei cittadini per il sistema di raccolta differenziata tra cumuli di sporcizia e mastelli ingombranti. Cagliari al voto, ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative, nel nostro Tg, oggi i candidati si confrontano sul problema parcheggi. Benvenuti al nostro aggiornamento quotidiano per ciò che concerne le notizie. Partiamo subito dal cinema che di per se stesso è una notizia che solitamente noi conferiamo nell'ultima pagine ma questa volta invece l'occasione è veramente ghiotta perché le star del cinema internazionale si sono radunate nel sud della Sardegna dove stanno presentando un prestigioso festival. Infatti la Sardegna si candida ad accogliere tutte le major del cinema anche per i prossimi anni con film in Italy Sardegna Festival e il sud Sardegna nel contempo lancia il messaggio per l'ecosostenibilità del territorio. Un'idea che è nata l'anno scorso, come spiegava Tiziana Rocca, un'idea perché insomma c'era necessità di avere una nuova destinazione e lo richiedevano le major americane e quindi che Tiziana ha proposto il sud della Sardegna proprio perché insomma è un tesoro nascosto con tutte le sue bellezze e sono rimasti affascinati un po' dalla visione di questa splendida di panorami, scenari eccetera quindi è stato deciso di poterla fare qua e quindi noi siamo felicissimi perché insomma abbiamo dato un contributo sostanziale a che la manifestazione si facesse in tempi rapidi e ovviamente con l'impegno un po' di tanti sponsor, di tante collaborazioni siamo riusciti a mettere su un evento di carattura internazionale che sono sicuro darà una visibilità straordinaria alla nostra splendida isola. Assolutamente credo che insomma siamo ancorati al territorio, in effetti il Forte Village valorizza altissimamente tutto quello che è autoctono quindi dalla cucina ai vini alla cultura al folklore eccetera quindi insomma chiaramente la gente quando viene al Forte Village sa che assapora un pezzo della qualità di questa straordinaria isola. Cioè un posto di rilevo internazionale ma che guarda nello specifico della cultura tradizionale. Assolutamente sì ne facciamo veramente sempre di più diciamo ne proponiamo ai nostri ospiti e c'è un riscontro straordinario perché è veramente una cultura affascinante e intrigante. Gli ospiti li abbiamo visti in parte nella conferenza stampa e saranno tre giorni di intensa proiezione mi sembra. Tre giorni di intensa proiezione ma mi credo anche tre giorni intensi dietro le quinte per poter organizzare tutto impeccabilmente come deve essere. Una promessa che forse l'anno prossimo i giorni saranno sei e non più tre. Ecco ci stiamo lavorando perché insomma chiaramente sono sei giorni di alta stagione quindi insomma rappresenta per noi un impegno importante ma visto il successo che questa manifestazione sta riscuotendo e la grande visibilità che insomma dà non solo a noi ma tutta la Sardegna chiaramente stiamo valutando la possibilità di ampliarlo. Cambiamo pagina e parliamo dell'Aias chiesta in conferenza dei capi gruppo l'istituzione di una commissione di inchiesta sull'Aias. Approta così in Consiglio regionale una questione che non sembra potersi risolvere con semplici tavoli di trattativa tra sindacati e vertici della stessa associazione. Sull'Aias potrebbe costituirsi una commissione di inchiesta all'interno del Consiglio regionale, un pool chiamato a districare una vicenda nella quale ormai si è perso il filo. A proporlo la conferenza dei capi gruppo in Consiglio, riunitasi ieri per valutare alcune proposte all'ordine del giorno, la commissione di inchiesta se istituita porterebbe ad un'indagine più approfondita, stante il fatto che l'Aias, l'associazione fondata in Sardegna dalla famiglia Randazzo nel 1967 e da allora punto di riferimento per tutte le famiglie con un disabile al suo interno, continua a sostenere di essere entrati in crisi a causa dei ritardi della Regione nel pagare le prestazioni concordate. A causa di questi ritardi l'Aias avrebbe accumulato debiti anche nei confronti dei dipendenti, essendo impossibilitata a versare loro gli stipendi. Il resto è cronaca di questi anni. Le proteste davanti alle sedi Aias, lo sciopero della fame di alcuni dipendenti, licenziamento di altri, le denunce di maltrattamenti poi concluse in condanne verso alcuni dirigenti, poi altre proteste davanti al Consiglio regionale e la decisione da parte della giunta guidata da Piglieru, di far nascere un nuovo ente regionale capace di raccogliere l'eredità della famiglia Randazzo dando assistenza ai dipendenti. Una soluzione che lasciava molti dubbi ai dipendenti che temevano di non essere riassunti d'ufficio ma di passare attraverso criteri selettivi dall'esito incerto. L'elezione e la nuova classe politica ha spazzato via per il momento questa idea e il nuovo assessore regionale alla sanità, Mario Niedu, ha preso in mano la situazione, qualche riunione con la proprietà e i sindacati e poi l'annuncio che l'Aias non riesce a fornire i documenti richiesti per giustificare le pretese di credito, da qui lo stallo delle trattative e la decisione di aprire la commissione di inchiesta. Torniamo in studio, la questione dei vitalizi infiamma la politica sarda dopo la denuncia su Facebook di Massimo Sedda, ex sindaco di Cagliari. Un atto normativo dovuto, rispondono le banche di maggioranza, richiesto da una legge nazionale. Lo aveva promesso Massimo Sedda quando dichiarò ufficialmente di scegliere i banchi del Consiglio anziché la poltrona di primo cittadino del Comune di Cagliari avrebbe fatto un'opposizione serrata, senza sconti. Ed è grazie anche ad un suo posto su Facebook visibile a tutti che è nato il caso Vitalizi in Consiglio. Denuncia l'ex sindaco fotografando la proposta di legge portata al vaglio del Consiglio. La prima proposta di legge della maggioranza leghista e sardista illustrata ai capi gruppo del Presidente. La prima proposta di legge della maggioranza leghista e sardista illustrata ai capi gruppo dal Presidente del Consiglio regionale riguarda il ripristino, comunque lo si voglia giustificare e definire, degli assegni vitalizi da riconoscere i consiglieri regionali. Non la continuità territoriale, non l'avvertenza latte, non il portocanale di Cagliari, ma dopo tre mesi la prima legge è per le pensioni dei consiglieri regionali. Dicono sempre, prima gli italiani, prima i sardi, ma la verità è che pensano solo a se stessi, pensano solo ai privilegi e alle pensioni per i consiglieri regionali. In realtà si difende Michele Paes e si tratta dell'adeguamento della normativa regionale a quella nazionale che ha pure tempistiche brevi. Se non si approva questa legge i consiglieri non avranno i contributi versati come tutti i lavoratori. Sul punto sono d'accordo anche alcuni esponenti del centro-sinistra, mostrando in questo un disaccordo con Sedda. L'ultima parola è però arrivata da Emanuele Cani, segretario del PD Sardegna. Il Partito Democratico, scrive in una nota asciutta e senza fronzoli, inviata ieri sera alle redazioni, ha avuto un'intera legislatura per reintrodurre i vitalizi a misure economiche assimilabili. non l'ha fatto nonostante la maggioranza in consiglio e non l'ha fatto per una precisa scelta politica. Certo è che chiunque pronunci la parola vitalizio oggi solleva un polverone, tanto i presunti privilegi di una classe sociale sono divenuti odiosi alla popolazione. È nato a Cagliari il movimento spontaneo Mi rifiuto, un stimolo per concepire una raccolta differenziata in maniera meno caotica di quella attuale che sta portando il capoluogo ad un passo dal pericolo sanitario. Io mi rifiuto, quasi un grido di battaglia, un'esortazione per tanti cittadini che non sono d'accordo sul metodo in cui viene effettuata la raccolta differenziata nel capoluogo. Il movimento per l'appunto prende spunto dalla protesta e riporta fedelmente nella sua dicitura come associazione questo rifiuto totale. Buongiorno, chi siete, da dove venite, quanti siete? Allora, chi siamo? Siamo un gruppo di cittadini cagliaritani vessati da questa organizzazione della raccolta porta a porta, discriminatoria, inefficace, vessatoria. Quanti siamo? Oggi ci siamo contati, soltanto stasera abbiamo raccolto un centinaio di firme, da domenica che abbiamo iniziato la raccolta le firme hanno superato già i 200. Quanti siamo? Ci stiamo contando cammin facendo. Di certo condividiamo tutti, lei ha parlato di un grido di battaglia, forse un grido di aiuto, insomma è la volontà di ottenere una risposta da un'amministrazione comunale che finora è stata insensibile alle proteste della cittadinanza. Ecco, ma quando non c'è il re, o meglio il re non è neanche nudo, perché non c'è proprio più chi guida la vettura e soprattutto chi si assume le responsabilità. Beh, la vettura è senza conducente ancora per poco, perché tra alcuni giorni sapremo chi andrà alla guida della città. Siccome il problema per noi è urgente, pressante ed è duro da vivere, soprattutto per alcuni, nella riunione moderna sono venute fuori delle situazioni personali molto pesanti e che da questa organizzazione della raccolta stanno avendo un peggioramento della qualità della vita considerevole. Parliamo di persone con problemi familiari di disabilità e così via, insomma non voglio entrare nello specifico. Chi prenderà il comando della città deve avere subito la consapevolezza che questo è un problema importante da affrontare subito. Tra i problemi più importanti del numero di qualcuno? Intanto la discriminatorietà della distribuzione dei costi sociali e monetari di questa raccolta che vede alcuni cittadini impegnati in conferimenti in orari e con pesanti mastelli da trasportare su e giù per le scale, mentre altri si possono avvantaggiare dei contenitori da redonificati. Insomma c'è una distribuzione dei costi economici e sociali pesantemente discriminatoria e vessatoria perché incide sulle abitudini quotidiane di noi tutti in maniera pesante. Parlo di me, parlo degli orari di conferimento e di ritiro, ma parlo dei turnisti, parlo dei pendorari. Ci ha scritto alla nostra mail una persona turnista che per settimane intere è impossibilitata con questi orari a conferire rifiuti e deve trasformare la propria abitazione in un immondezzaio privato. Insomma, le problematiche sono tante. È evidente che l'amministrazione comunale non si è fatta ancora un'idea di quanto abbia peggiorato lo standard di vita dei cagliaritani questa modalità di raccolta dei rifiuti. Adesso parliamo di economia con Maurizio Meli, se il PIL sarebbe in discesa. Nel 2018 c'è stata per la Sardegna una leggera crescita, anche se il rispetto all'anno precedente ha perso spinta. Due cifre che fotografano l'andamento, più 0,2% per quanto riguarda il PIL regionale, contro il più 0,8% del 2017. In un dato generale la ripresa dell'isola è stata dal 2014 più lenta di quella nazionale, lo 0,9% sul valore aggiunto a fronte del 4,6%. Sono i dati salienti del report 2019 sull'economia dell'isola, presentato nei giugni scorsi dalla Banca d'Italia. Tendenza di crescita che continua, ha sottolineato Giancarlo Fasano, direttore della sede di Cagliari, anche se ha un ritmo più lento rispetto al 2017. Continuando nell'analisi, nel mercato del lavoro è aumentato se il numero degli occupati sia quello delle ore lavorate per addetto. I neolavoratori hanno trovato spazio nel settore del commercio, turismo e ristorazione. Non male anche sanità e istruzione. Buona anche la crescita del tasso degli occupati e dei laureati, salito tra i 15 e i 64 anni al 52,7%. Con segno più anche i dati per gli under 34, il tasso di occupazione sopra i 25 anni è cresciuto. Per quanto riguarda la disoccupazione, gli indici rilevano abbassamento dal 17 al 15,4%. Il reddito a disposizione delle famiglie è un po' aumentato, ma rimane stabile la spesa per i consumi. Qualche passo in più lo ha fatto anche l'export senza prendere in considerazione il comparto del petrolio. Il commercio soffre ancora a causa del ralentamento dei consumi, mentre a gonfie veli il turismo che segna quasi un 6% in più sugli arrivi, un 5% di crescita nelle presenze, grazie a una grossa mano dei vacanzieri arrivati dall'estero. E adesso andiamo un attimo in pubblicità e ci rivediamo tra qualche istante. È in corso di svolgimento all'auditorio comunale di Cagliari, di Piaestrata dei Lettori, il Cagliari Comedy Festival, il primo raccoglitore, diciamo così, di comici nazionali che arrivano nell'isola. Oggi, dalle ore 19, Alessandro Congiu, Alessandro Murtas, Clara Ciampi e Daniele Fabri. Dalle 22, Nicola Garau, Zamu, Albert Wurzli in canapa e Pietro Saracino. Domani sarà la volta invece di Giuda Freelander, Future Presidente Tour, alle 21.30, mentre alle 19, Matteo Piloni, Luca Tramazzo, Francesca Falchi, Roberto Lai, Renato Minutolo e Stefano Rappone. Abbiamo anche il cinema, nuovamente, con l'arrivo nella nostra isola del Sardinia Film Festival, che è un premio cinematografico dedicato al cortometraggio, alla sua 14esima edizione, che si svolge a Sassari, proprio in questi giorni, con un antiprima all'Accademia Mario Sirioni, per proseguire con tre giornate a Palazzo di Città, sino al 15 di giugno. Andiamo avanti con il telegiornale e adesso parliamo dei grandi maestri del Novecento che sono in mostra dal 22 giugno, saranno in mostra dal 22 giugno ad Azzara. Recuperate per l'occasione anche opere in mano ai privati che rendono unico e ripetibile l'esposizione. Un secolo d'arte racchiuso nella collettiva più prestigiosa mai vista sul Novecento Sardo, 43 opere di oltre 30 autori tra i più illustri dell'isola, dai grandi classici di Giuseppe Biasi e Maria Lai a inediti di Antonio Ballero, Edina Altana, Antonio Corriga, Carmelo Floris e altri di non minore spessore. Il Museo Orsi si prepara ad accogliere dal 22 giugno alla mostra d'arte Cent'anni i maestri della pittura sarda del Novecento, un'iniziativa dell'Associazione Culturale Antonio Corriga patrocinata dall'amministrazione comunale di Azzara e sponsorizzata da numerosi enti pubblici e privati, tra i quali il Distretto Culturale del Nuorese, il GAL BMG, l'Associazione Città del Vino, la Fondazione di Sardegna e il Banco di Sardegna, che ha messo a disposizione ben sette straordinari capolevori della sua collezione, non solo dipinti ma anche sculture, bronzi, ceramiche e tele, tutti scovati tra collezionisti privati per essere messi a disposizione di tutti. Sarà un evento irripetibile che resterà aperto per circa sei mesi per concludere a dicembre e subito dopo cortes aperta. Insomma, una di quelle occasioni che si presentano una sola volta nella vita, la cerimonia d'inaugurazione, si terrà sabato 22 giugno alle 19.30. Le opere d'arte non dovrebbero restare nascoste ma bisognerebbe permettere a tutti di conoscerla, ha affermato Sabina Corriga, curatrice dell'esposizione assieme ad Antonello Carboni e presidente dell'Associazione che porta il nome del grande pittore a Zarese. I due hanno effettuato un lungo e accurato lavoro di reperimento e selezione, non privo di sorprese e soddisfazioni. Abbiamo cercato solo l'eccellenza tra gli autori, anche per offrire al pubblico il valore di una mostra speciale, certamente la più prestigiosa ma realizzata sul tema. Siamo in presenza di una collettiva di cui si parlerà per anni, ha spiegato la curatrice, ed è proprio il caso di non perderla. Visitarla aiuterà a comprendere quali straordinari accadimenti culturali siano avvenuti in questo paesino di poche anime ai primi del Novecento. Parliamo di sport e parliamo ovviamente in questo caso della Dinamo Banco di Sardegna che stasera al Palazzo Real di Miglia nel 20.45 affronta ancora una volta la Reier Venezia per la terza partita dei play-off, terza partita su sette. Se ne dovranno quindi vincere almeno quattro. Le partite sono molto calde, è la prima cosa che mi viene in mente. Combattute, molto fisiche come comunque ci aspettavamo. Data l'importanza delle partite si sapeva che è stato molto difficile. Torniamo a casa con la vittoria, non è sconfitta, non è male. Adesso vediamo di far bene anche a casa nostra con i nostri tifosi. In the first two games of playing hard and handling the gym we were playing in that was probably one of the toughest parts was how hot it was and I'm glad we can come back and for the next two games we need to just take advantage of being at home, get rest and just keep doing what we're doing. I think we were fine, I mean we won 22 games in a row and I mean oh that's a ton and people are like oh no they lost one but we still won 22 so everybody was really confident, I was confident and everybody was still, we know we're fine so I'm proud of how we reacted after the loss because Venice is a good team and I'm glad that we were able to handle ourselves and come out appropriately. From my experience I know just playing in the finals that it's like a dogfight. It's whoever plays the hardest is going to win and that's what I keep telling them before every game. I think we played very well the first two games and now we have a little better advantage these next two games here. I mean I know what it takes to play in the finals it's got to focus more and just be ready whenever the coach or someone needs you and just from experience me and Jack Devecchi is really the only two players who's played in the final so you know I just try to do what I've been doing and use my experience from the first time I've played. Sensazioni, emozioni uniche nel senso che una finale ho avuto già il piacere di giocarla che è quella del 2015 e di viverla e di vincerla però quest'anno ha quel sapore in più portando appunto al braccio questa fascia da capitano che è qualcosa di unico e insomma è una bella emozione per il momento ce la stiamo vivendo alla grande quindi giusto così si va avanti partitata dopo partita arriviamo da queste prime due gare di Venezia dove in gara 1 abbiamo giocato bene ma abbiamo anche regalato tanto dopo in gara 2 invece siamo stati un po' più attenti e quindi siamo riusciti a portare la serie sull'1-1 e adesso ci sono queste due partite qua a Sassar ovviamente avendo il sesto uomo che è il nostro pubblico e la nostra ci darà una grandissima mano e soprattutto anche un po' di arra condizionata ci darà una mano Auguri alla Dinamo auguri a tutti i sassaresi adesso chiudiamo il nostro telegiornale con il consueto spazio dedicato questa settimana ai candidati sindaco del comune di Cagliari oggi è l'ultima giornata di poter fare campagna elettorale e da domani ci sarà il silenzio oggi parleranno sul problema dei parcheggi e anche qualcuno ha scelto un tema a proprio piacimento il nostro problema dei parcheggi ritorniamo lì è collegato alla sostenibilità urmana probabilmente c'è da ristudiarla Cagliari adesso c'è chi sta proponendo in maniera fantascientifica addirittura una metropolitana sotterranea non lo so se poi andranno loro a scavare per cercare di mettere i parcheggi là sotto è un problema che dobbiamo affrontare sicuramente bisogna usare non dei burocrati per pensare bene Cagliari noi abbiamo tanti di quelle figure urbanisti scienziati che sono disposti a darci una mano d'aiuto bisogna che noi diamo l'atto di indirizzo e poi funzionino i funzionari perché ne abbiamo a Cagliari di brevi funzionari la politica deve lasciarli lavorare e si trova un'idea anche per questo il problema dei parcheggi lo risolveremo sia evitando che le 180.000 auto che ogni giorno entrano a Cagliari lo facciano perché favoriremo l'utilizzo dei mezzi pubblici e l'utilizzo dei parcheggi di scambio che realizzeremo alle porte della città e poi facendo degli accordi con la Regione per utilizzare i parcheggi degli uffici pubblici che non vengono utilizzati il pomeriggio e realizzando alcuni parcheggi in struttura come quello di Via Craprera che avrà 500 nuovi posti auto nei pressi di stampaggio del centro storico c'è da dire anche che attualmente i parcheggi in struttura sono sottoutilizzati e quindi sarà necessario fare nuove politiche con i gestori in modo da agevolare e incentivare l'utilizzo dei parcheggi in struttura da parte dei cittadini Se mi consentite invece di farmi una domanda io mi farei questa qual è la vera anima di Cagliari e su cosa deve puntare Cagliari? Io penso che Cagliari sia una città mercantile la storia di Cagliari sia quella di una città commerciale e oggi i cagliaritani devono imparare a fare un'operazione culturale guardiamo sempre la città dandone le spalle invece ci dobbiamo voltare e guardarla come se fossimo in mare perché dal mare che la città appare ancora più bella di quanto non lo è realmente e dal mare che arrivano le opportunità penso alla zona franca al porto al rilancio del porto canale al porto commerciale con la possibilità di attirare le tante navi che circolano sotto Cagliari ne passano 55 mila all'anno attirarne solo l'1% significherebbe far sì che in porto entrino due navi all'anno due navi al giorno scusate significa un'opportunità lavoro, occupazione e risorse per la nostra intera città metropolitana Va bene, è tutto per il telegiornale di stamattina un ringraziamento a Barili Raniedu alla Messinonda e a Luca Banino che ci ha aiutato alla regia e al montaggio arrivederci a tutti grazie a tutti